Proseguono i festeggiamenti per San Giuseppe promossi dal Comitato e dai padri agostiniani a Gela. Giovedì 5 maggio alle 9 celebrazione eucaristica, alle 18 e 15 Santo Rosario e L'Italie e alle 19 celebrazione eucaristica con riflessione omiletica. San Giuseppe è il santo patrono per eccellenza della famiglia. La festa conclusiva è prevista per domenica 8 maggio. La festa di San Giuseppe cade ogni anno la prima domenica dopo il primo maggio. E siccome quest'anno il primo maggio è stato di domenica, sarà domenica 8 maggio. Come si svilupperà domenica 8 maggio? Cosa avete preparato? Sì, dunque ci saranno le messe la mattina come da programma, ma solo e unicamente la mattina. L'ultima a mezzogiorno, dopodiché ci sarà il Yoko de Viadruzzo in piazza come sempre e da partire dalle 16-16.30 la processione che si svolgerà per le vie della città con rientro alle 22-22.30 circa e avrà seguito il spettacolo di Piro Tecnico. Sono molti i fedeli che si affidano a San Giuseppe. I fedeli di San Giuseppe sono tantissimi, specialmente i giovani che si impegnano nell'organizzazione anche nella preghiera, nel tridu eccetera, ma ci sono tanti tanti giovani che si prestano per la riuscita della festa. Cosa chiedono a San Giuseppe? Soprattutto lavoro? Chiedono a San Giuseppe la protezione delle famiglie, si chiede il lavoro e si chiede anche, siccome la nostra statua ha Gesù bambino per mano, chiedono anche protezione per i bambini. Tant'è vero che c'è la splendida tradizione di spogliare i bambini quasi neonati davanti alla statua di San Giuseppe quando San Giuseppe, il simulacro, esce dalla chiesa.